Quale sarà l'impegno di Sgarella per la città anche in essere coordinatore di Forza Italia, quindi alla guida di una compagine abbastanza forte in città? L'impegno di Sgarella con tutti gli amici di Forza Italia che stanno dentro l'amministrazione, quindi gli assessori, i consiglieri e gli amici che stanno fuori è quello di rilanciare questa città che secondo il mio punto di vista è una città morta dal punto di vista politico, industriale, lavorativo e urbanistico, il mio impegno è in questo senso come penso l'impegno degli altri amici di Forza Italia che sono dentro e fuori dall'amministrazione. Per quanto riguarda invece il partito sono per rilanciare, per ringiovanire questa forza politica, cioè devo creare il dopo di me insomma. E' bellissimo questo. E' un testamento? Eh sì. Grazie. 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 Grazie.